Sono Amedeo, vengo da Messina, ho 20 anni. Mi chiamo Cristiano Chiossi e vengo da Scolipiceno. Faccio danza, mi sono diplomata due anni fa in Alfa Manerna e dovrei diplomarmi in hip hop. Quest'oggi vi daremo le palline d'argento, le dovete prendere, occhio che bruciano. Beh, insomma, non è che vengo qua, stendiamoci un veloce coso, perché ne è passati tanti purtroppo. Ma non te siamo folli, che fare animatori alle volte è follia. Ho una collezione di maglie da gioco, di calcio, originali. Pensare davvero che c'è gente comunque come me, di 32, anche 35 anni, no? Che magari ogni anno lascia il lavoro per andare a fare l'animatore. Quindi non siamo stabili, capito? Allora quindi, la domanda è questa. Cos'è il peso? Fammi la rivedere e me la sono ascoltata. Chi? Vai, chi? Non Q, non K, non C, né C, né C, ma chi aveva smarito la retta via? Se trovo uno che lo fa a fare la morte lenta, senza patire, lo pago. Calcio. Calcio. Grazie a tutti